...dosso, sulla pelle, e a casa il cicatone, con le mani, con le mani tu puoi diretti sì, a trovare nuove sensazioni, farsi trasportare dalle emozioni, e un incontro di mani, quel comore, con le mani se vuoi, puoi diretti sì, e puoi diretti sì, e puoi diretti sì, ...dolo, con le mani tu puoi diretti sì, e puoi diretti sì, con le mani, puoi diretti sì. Chau, per la passata, ori neppo di me! Hei!